Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per mostrarvi un nuovo unboxing, un nuovo video acquisti importantissimo per il giorno del mio compleanno. Ebbene sì, quest'oggi è sabato 13 marzo, è il mio compleanno e vorrei aprire questi due pacchi che in realtà mi sono arrivati due giorni fa, volevo aprire proprio nel giorno del mio compleanno e farmi vedere questi importanti recuperi fumettosi della Monelli, roba che avevo già ordinato un tempo fa, priva dei famosi aumenti, vabbè ma tanto non c'entra niente il fatto degli aumenti, c'entra soltanto che mi sono concesso questi importantissimi recuperi per il giorno del mio compleanno, siete curiosi di sapere cosa sono? Cos'è? Sono due pacchi, uno più piccolo e l'altro più grande, da quello che avete potuto vedere, ecco il bollino, anzi, Bonelli, e andiamo ad aprirli, vediamo un po' cosa c'è ragazzi, ovviamente li sto aprendo davanti a voi, io so cosa contiene però giustamente meglio aprire e poi vedere cosa contiene, ecco qui ragazzi, belli nuovi, belli nuovi, due magazine di Dylan Dog, i due magazine che mi mancavano, magazine 2015, il primo magazine perché chi segue Dylan Dog sa che il Dylan Dog magazine è il numero nuovo del vecchio almanacco di Dylan Dog, per cui io mi ero perso i primi due magazine, gli altri ce li ho, sono sei usciti finora, il settimo uscirà il 24 marzo, quindi tra 11 giorni, ma mi mancavano questi due, il primo magazine, da quando ho chiamato nome, magazine 2015, e il secondo magazine, il magazine 2016, e questi sono i primi due acquisti, due recuperi importanti, qui ci sono dei recuperi altrettanto importanti, forse secondo me per i miei gusti ancora più importanti, sempre Bonelli, ovviamente, andiamo piano piano per aprire il pacco, ecco sempre la lettera Bonelli, questo è un po' più difficile da aprire ragazzi, credo, tanto io si spacco tutto, ecco qui ragazzi, altri recuperi Bonelli, altri recuperi Dylan Dog, l'unico maxi Dylan Dog che mi mancava, il maxi numero 7, bruttissimo bollino però qui, quindi ora ho tutti i maxi Dylan Dog del vecchio nome, il nuovo old boy praticamente, i vecchi maxi Dylan Dog erano 38, io ne avevo 37, mi mancava uno, e questo è il numero 7, ultimo recupero, per cui ho completato la collezione dei maxi Dylan Dog, poi ve li farò vedere tutti nel video collezione che farò più presto se raggiungiamo i 500 iscritti, non siamo lontanissimi, per cui ragazzi, per chi non è iscritto e trova di suo gradimento i miei video, puoi iscriversi perché a 500 iscritti ci sarà il video collezione, e poi altri 4, 4, insomma, 4 fumetti che mi mancavano per completare, insomma, questi servono per completare la mia collezione, la collezione dei Color Fest, ragazzi, eccoli qui, i 4 Color Fest che mi mancavano, il Color Fest numero 3, il Color Fest numero 15, Color Fest numero 18, e il Color Fest numero 22, erano tutti i Color Fest che mi mancavano, per cui ragazzi, ho completato sia la collezione dei magazine, 6 su 6 per ora, dei Dylan Dog, la collezione dei maxi Dylan Dog, ora ne ho 38 su 38, e poi ne ho tutti, perché anche quando ho cambiato la voce, praticamente 38, sì, più gli All Boy, che sono 5, per ora sono 43, li ho tutti, e ho completato la collezione dei Color Fest, tutti e 36 i Color Fest usciti finora, ne avevo 32, come detto, mi mancavano 4, e sono riuscito a recuperare questi ultimi 4, mi sono fatto il regalo di compleanno, ragazzi, eh sì, come detto, oggi, 13 marzo, è il mio compleanno, e mi sono fatto questo regalo, la roba mi è arrivata due giorni fa, mi è arrivata l'11, però oggi, è sabato 13, e volevo uscire quest'oggi, con questo video, ecco, tutte le costine, per cui, 7 volumi, come detto, 2 magazine, vi faccio rivedere, magazine 2015 e magazine 2016, i 4 Color Fest, eccoli qui, e poi il Maxi di Landauk numero 7, che mi mancava, quindi collezioni completate, ragazzi, al più presto, dipende da voi, da la gente che si iscriverà al canale, se arriviamo a 500, non siamo molto lontani dalla meta, sarà, è un obiettivo molto importante per me, un traguardo molto importante, credo, per ogni YouTuber, ma per me lo è, particolarmente, io ovviamente, senza di voi, sarei nulla, sono molto contento del vostro supporto, di voi che mi guardate i video, di voi che siete anche nel mio gruppo Telegram, insomma, ogni giorno ci iscriviamo, ogni video che faccio, comunque arrivano commenti, se positivi che negativi, alla fine le critiche costruttive ci possono essere, insomma, non smetterò mai di ringraziare tutti voi che mi supportate, supportate questo mio canale, Allianology, insomma, per il mio compleanno volevo farmi questo regalo, ragazzi, grazie a tutti, come dico spesso, per chi vede per la prima volta un mio video e gli piaccio, insomma, trovi il suo gradimento, quello che propongo, puoi iscriversi al canale, attivare la campanella per le notifiche, entrare nel gruppo Telegram, link in descrizione, tutto ragazzi, tutto davvero, tutto, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao!